Due amici si incontrano e uno dice all'altro Ah Mario, ma che ha fatto che sei così serio? Eh, sta buono, Giova, ma è successa una cosa troppo triste Oddio, amico mio, che t'è successo? Eh, niente, mio zio, purtroppo ci ha lasciato Ai, 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 mi dispiace, amico mio, condoglianze Senti, ma quant'anni c'aveva tu zio? Eh, ce n'aveva 101 Ah, vabbè, dai, amico mio, insomma, pace all'anima sua, però 101 anni Insomma, voi siete goduto vostro zio Magari ci arrivassero tutti all'età sua Eh, sì, ho capito, amico mio, soltanto che io a sto mizio C'ero troppo affezionato perché era troppo matto Tu pensa che lui, per 80 anni, perché ha iniziato a bere tipo a 20 anni Si è bevuto quattro bottiglie di grappa al giorno Tutti i giorni per 80 anni E poi fumava, fumava, fumava Ma più che altro beveva tutta sta grappa Ammappa, oh, tutta sta grappa si beveva Tu zio, senti, ma non gli ha mai creato nessun problema Tutta sta grappa bevuta per 80 anni Eh, no, veramente no, nessun problema particolare Ecco, giusto all'ultimo gli ha creato qualche problemino Ah, sì, e quando? Eh, proprio all'ultimo, quando avevamo cremato Ah, e che problema gli ha creato? Eh, niente, riusciamo più a spegnerlo All'ultimo, è vero All'ultimo, è vero